Buongiorno a tutti e benvenuti alla rassegna stampa della vigilia di Natale, siamo in diretta, siete sul canale 17 di Fano TV, visibile in tutta la regione Marche ma visibile anche sui device, sui telefonini, ormai siamo dappertutto in streaming. Buongiorno allora, ben ritrovati carissimi telespettatori, allora oggi cominciamo come di consueto la rassegna stampa con uno sguardo al calendario per vedere chi sono e che cosa ricorda la Chiesa oggi, chi sono i santi di oggi, ma in particolare oggi la Chiesa ricorda tutti i santi antenati di Gesù, è una commemorazione di tutti questi santi antenati di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, ovvero di quei padri che piacquero a Dio e che trovati giusti pur senza aver ricevuto le promesse ma avendole soltanto guardate e salutate da lontano morirono nella fede. E questa è la pagina del Santo di oggi con il sole e l'almanacco sotto che ci indica il sole che sorgerà alle 7.39 e tramonterà alle 16.35. Vigilia di Natale che secondo Trebbi Meteo sarà comunque una vigilia senza perturbazioni, c'è questo anticiclone che garantisce dunque bel tempo ma con sbuffi freddi da est, vento a tratti anche forte. Poi chiaramente si spingono oltre per vedere anche la tendenza del tempo per il fine, per Capodanno, per l'ultimo, il 31 dicembre, ci sono gli ultimi aggiornamenti ma a noi non interessa in questo momento, ci interessa invece vedere come sarà la giornata dal punto di vista meteorologico oggi secondo la protezione civile delle Marche nella nostra regione e allora vedete il sole che splende ovunque, c'è soltanto un po' di vento teso con rafiche nel pomeriggio fino a vento forte. Per domani, guardate, sembra piena estate, se non fosse per le temperature sarebbe una schermata tipica di agosto, luglio-agosto, invece siamo al 25 dicembre, questa è l'immagine del tempo per domani, le temperature sono stazionari, anzi in aumento, in lieve aumento nei valori massimi, il giorno di Santo Stefano avremo un po' di nuvolosità con temperature senza variazioni di rilievo, insomma tempo stabile fino alla fine del settimana. E adesso andiamo a leggere i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, questa è l'edizione di Pesaro, devo curare la SLA, Pesaro mi aiuti, la battaglia di Daniele che ha di 57 anni, è storico tifoso della Vis Pesaro, fa una terapia sperimentale in Russia, lo stipendio però non gli basta. A centro pagina invece la fotografia di due giovani, una coppia di fidanzati che è stata investita da uno scooter a Soria, un quartiere di Pesaro, il loro dramma raccontato questa mattina nelle colonne del giornale, noi travolti dal pirata e sì, perché il ragazzo, l'uomo, non lo sappiamo, un uomo, una donna, comunque colui, colei che era a bordo, stava sullo scooter e che li ha investiti alle due di notte davanti alla chiesa di Soria, non si è fermato, anzi per cercare la fuga è passato persino sopra le gambe di questa ragazza. Gianluca e Beatriz stavano rincasando a piedi quando un centauro li ha colpiti e gettati a terra, ferendoli seriamente, poi ha tentato di metterli ancora sotto pur di garantirsi, come dicevo, la fuga. Nella prima pagina del carino di Pesaro c'è un riferimento anche alle regionali, Matteo Salvini, il leader della Lega che è andato ad Ancona, glissa un po' sul candidato, sceglieremo, dice lui, il migliore, mentre sulla pista di ghiaccio in Piazza del Popolo resta il rosso, ma la sovrintendenza è poco contenta, aveva chiesto di rimuoverli perché la fontana era un po' nascosta. E poi, sempre per le feste, questi giorni di feste, Piazza sarà blindata per l'ultimo dell'anno, la musica sarà vintage, è stata presentata ieri a Pesaro la festa dell'ultimo dell'anno. Eccolo qua Salvini con in mano il presepe, il leader della Lega con il presepe sul palco di Piazza del Papa, Salvini show e proteste, l'ex premier Ancona dice è diventata famosa per il comune che ruba via sindaco e governatore, questo in riferimento all'episodio di cronaca che riguarda il dipendente del comune infedele che è stato arrestato qualche settimana fa. Le sardine invece in Piazza Roma, sempre ad Ancona, con libri e dischi, corteo in centro di manifestanti dei centri sociali. La pagina di Macerata invece apre con una notizia che riguarda il Vescovo. Il boss a casa del futuro Vescovo, inchiesta sull'Andrangheta nelle carte Spunta Massara, oggi alla diocesi di Camerino, però non è indagato. A centro pagina, slalom di Natale, via Roma, code e proteste per la nuova viabilità. Questa è la pagina interna del resto del carlino che ricorda appunto e racconta l'incidente che è avvenuto alle 2.30, come dicevamo, davanti alla chiesa di Soria a Pesaro. Gianluca Troiani ha 26 anni, un pesarese, dipendente trimestrale delle poste. Tra venerdì e sabato mattina, intorno ai due, mentre stava rincasando insieme alla fedezzata Beatriz, dopo una cena in un circolo di Soria, sono stati investiti da uno scooterone e gettati a terra. In sella alla moto c'era uno sconosciuto col casco che non ha aiutato i due fidanzati, ma ha cercato anzi di buttarli sotto una seconda volta pur di guadagnare la fuga. Il motociclista pur di fuggire è passato sopra la gamba, racconta lui della mia fidanzata, lui adesso si trova ad Ancona perché ha una frattura scomposta alla mandibola, ieri gli hanno applicato tre placche, una delle quali ahimè gli rimarrà tutta la vita. Spero, dice ancora, che trovino il responsabile di tutto questo e che non la passi lisce, che ripaghi tutto il danno che ha fatto e che ci segnerà la vita per sempre. Ovviamente a loro gli auguri di Buon Natale. La battaglia di Daniele invece, tifoso della Vis, sempre raccontato nelle colonne del Carlino, Davide Eusebi, ha raccolto questa storia. Devo curare la SLA, aiutatemi, fa una terapia sperimentale in Russia, racconta questo uomo, eccolo qua, lo vedete qui insieme a Matteo Ricci, il signor di Peso, e il suo carissimo amico. E dicevo, mi sono informato, dice lui, racconta, e ho scoperto che a Mosca c'è una clinica svizzera che sperimenta un metodo che mi sta aiutando. Daniele c'è stato due settimane a dicembre insieme al suo amico d'infanzia Stefano Micheletti. Ho pagato, racconta lui, 25 mila euro. A Mosca mi fanno un prelievo di midollo spinale, mi filtrano le cellule, buttano quelle che stanno per morire e purificano le altre, reinserendole nel corpo. Ora, dice lui, dovrei tornarci nel mese di maggio, ma con quali soldi, visto che io non ho possibilità economica, sono un dipendente dell'ospedale, guadagno 1.350 euro al mese lavorando da casa dove mi impiegano per inserimento dati negli ospedali di Peserofano e Muraglia. Insomma, una volta ero infermiere nei reparti, adesso la malattia sta facendo il suo corso. Allora il resto del Carlino pubblica questa mattina anche il numero di conto corrente postale per sostenere appunto questo storico tifoso. Il numero lo vedete qui, acquistando il giornale potrete segnarvelo ancora meglio. Ma non c'è solo il tifoso della vis Pesero, c'è anche quest'altro uomo malato di SLA e ad accudirlo c'è la moglie. Dal 2011, qui siamo a Iesi e la signora idealmente scrive una lettera a Babbo Natale, io l'avrei scritta più a Gesù Bambino, ma comunque a Babbo Natale fa lo stesso, l'importante è che se ne parli. Non riesco ad aiutare mio marito, dice malato di SLA. Dateci una mano, lei è mai la piglia poco, ha avuto un infortunio e ha chiesto all'Asur un sostegno per il compagno che però le è stato negato. E lei racconta così in questa lettera, sono la moglie di un malato di SLA dal 2011 e da allora sono diventata la sua ombra. Siamo sulla pagina di Fano del resto del Carlino, a proposito di Natale, a proposito di regali. La Regione Marche ha voluto fare un regalo di Natale, mettiamola così, a chi lavora nella spiaggia, nel tratto di spiaggia di Sassonia Nord. E parliamo di un regalo che si chiama scogliere. Sono stati stanziati 800 mila euro. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Claudio Minardi, parla di una risposta definitiva ed importante. Sono le due scogliere praticamente mancanti di fronte ai bagni Gabriele e bagni Carlo. Nella spiaggia di Sassonia sono stati stanziati questi soldi. Nel bilancio regionale di previsione, approvato ieri dal Consiglio regionale, è una risposta definitiva, dice Minardi, tanto attesa e che chiude dunque una vicenda annosa. E questo è un risultato che non era affatto scontato. Tra l'altro sono circa 8 milioni e mezzo di euro le risorse totali che la Regione Marche ha stanziato per il Comune di Fano tra scogliere e ripascimenti. Poi in questo articolo si snocciolano un po' tutte le varie cifre. Si capisce meglio anche per che cosa servono questi soldi e dove si interviene. E se per i bagnini ci sono buone notizie, per la città intera, insomma ci sono buone notizie, per la città intera ce ne sono alcune che preoccupano un po'. Perché? Perché tra sette anni, secondo Luciano Benini di Benecomune e Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle, la discarica di Monte Schiantello, dove vengono buttati tutti i nostri rifiuti, potrebbe essere esaurita e dunque potrebbe non esserci più spazio per conferire i rifiuti. Lanciano dunque l'allarme spazzatura, la discarica sarà esaurita e Fano non saprà dove conferire i propri rifiuti e in qualche modo se la prendono un po' con la gestione, la politica dell'attuale amministrazione che pare poco sensibile al problema dei rifiuti. Andando invece sulla pagina 22 del resto del Carlino di Pesaro, si parla dell'inaugurazione del nuovo tratto dell'interquartieri. Però partendo da un fatto che i più giovani chiaramente non se lo ricorderanno, ma chi ha un po' più di anni sicuramente sì. Stiamo parlando di una casa che insisteva, ve lo faccio vedere qua sotto, guardate, c'è un piccolo riquadro allargando il touchscreen. Eccola qua. Vedete qui ci sono le barriere fonossorbenti dell'autostrada. Ecco, qui passa la nuova interquartieri, quella che è da via Flaminia dove c'è l'attuale caserma dei Vigili del Fuoco va verso Fenile. Bene, lì c'era più o meno, lì vicino c'era una casa dove tanto tempo fa, nel dicembre del 1992, si compì una strage, una strage terribile. Bene, quella casa non c'è più, non esiste più. Era Centinarola, l'abitazione era della famiglia Diotallevi, marito, moglie e due figli, 24 e 26 anni, tutti uccisi, sterminati dal vicino di casa. Una casa che è stata abbattuta per fare posto ad una delle opere compensative della 14 e l'abitazione della strage, su cui in quel dicembre del 1992 si concentrò l'attenzione di tutta la stampa nazionale. Fu una strage terribile. Ebbene, non c'è più racconta di questo taglio del nastro. Anna Marchetti, del resto del Carlino, in qualche modo hanno ricordato anche questo episodio. Sulla mamma morta con il bambino, il padre chiede giustizia e verità. Sua figlia Carmen perse la vita insieme al piccolo di nove mesi che aveva in pancia. Ciro Zazzaro dice vogliamo che qualcuno paghi. Per lui il tempo si è fermato tre anni fa, congelato a quella notte delle stelle cadenti, quando il suo desiderio più bello si è spento su un lettino dell'ospedale di Fano. È lì che il 10 agosto del 2016 sua figlia Carmen, di 24 anni appena, è già mamma di un bimbo, è morta insieme al piccolo di nove mesi che aveva in pancia. I sanitari le avevano detto che il cuore del bambino non batteva più, così le hanno indotto il parto per farla espellere il feto senza vita. Ma qualcosa purtroppo è andato storto e anche lei non ce l'ha fatta. Ora, a distanza di tre anni, il papà di Carmen, Ciro Zazzaro di 49 anni, torna a chiedere la stessa cosa di allora, giustizia e verità. Con il mio avvocato vogliamo rivolgerci al giudice civile, io e mia moglie abbiamo tanta rabbia. Posti a pagamento, si parla ancora di parcheggi a Fano, la ricetta delle categorie, cioè sono i commercianti, gli albergatori, spazi per il carico e lo scarico davanti agli hotel, un'area sosta per il pullman all'Ido e alla Sassonia. Insomma, si continua a parlare di questi parcheggi che, secondo la previsione del comune di Fano, insomma, verrebbero messi a pagamento, sono tanti, non sono neanche pochi. Al di là dell'aumento delle tariffe dai 5 ai 20 centesimi all'ora, ma c'è anche l'aumento delle strisce blu, circa 400 posti. Qui siamo a Pesaro, invece, la piazza resta rossa, vince il compromesso. Il comune e la ditta di pattinaggio hanno potuto soddisfare solo in parte le richieste della sovrintendenza, per quanto riguarda il resto, invece, se ne riparlerà praticamente il prossimo anno. E poi c'è la notizia, invece, che da Terre Roveresche, la notizia di questo libro che ha scritto questo ragazzo, che, come abbiamo già avuto modo di ricordare anche in altre occasioni, qui in Rassegna Stampa, questo ragazzo che si chiama Leonardo Fulvi Ugolini e che è morto qualche mese fa, ha lavorato per un po' anche qui con noi, aveva 23 anni, dicevo, e aveva un sogno, il sogno di stampare un libro di poesie, un libro di poesie che lo stesso Leo aveva scritto, poi purtroppo non ce l'ha fatta a vederlo stampato, ma qualcuno ha preso in carico questa missione e l'ha portata a termine. Alla fine, insomma, la notizia è che questo volume di poesie scritto da questo giovane che era nato a Piagge aiuterà, con il ricavato di questi libri, ad acquistare alcuni ausili didattici al nido. E quindi, insomma, da lassù continua a lavorare il nostro Leo. Mini arsenale di pistole e proietti, l'ha arrestato un muratore albanese, ha patteggiato la pena che poi è stata sospesa ad un anno e dieci mesi di reclusione e 3.000 euro di multa. Da una litigata praticamente alcolica all'arresto, tutto in una notte e in poche ore, a farlo finire nei guai, due pistole revolver con marca illegibile matricola Brasa, due ferri clandestini che nascondeva uno nella cassetta delle lettere e l'altro nel garage. Ed è lì che li hanno ritrovati i carabinieri della stazione di Colle del Metauro, guidati dal luogo tenente Antonello Pannaccio e dalla perquisizione, sono saltate fuori anche delle munizioni. L'altra notizia invece, come cambia la Chiesa, visto che in questi giorni i nostri, in questi giorni i preti hanno un super lavoro, perché comunque ci sono le messe da celebrare e quant'altro. Nelle Marche, la notizia è che nelle Marche vivono i preti più vecchi d'Italia. L'età media è di 73 anni, solo il 7% a meno di 40 anni e dal 1990 ad oggi la Regione ha perso per strada oltre 800 consacrati. Nella Regione Ecclesiastica delle Marche vi sono 823 parrocchie servite da 1.033 sacerdoti. Il surplus di preti rispetto alla comunità è solo fittizio, perché in questo territorio l'età media dei sacerdoti la più alta in assoluto, essendo di circa 73 anni. Inoltre vi è un calo inesorabile, dato che nel 2018 erano ben 1.102 i presbiteri e in termini percentuali il dato è comunque peggiore rispetto a quello nazionale, perché in Italia nel 2018 i sacerdoti diocesani erano 35.388, un numero che è sceso a 32.306 a maggio del 2019. Insomma possiamo dire che la caduta è inesorabile e insomma c'è sempre più spazio a questo punto anche inevitabilmente per i laici, molti parroci infatti devono seguire più parrocchie. E poi sotto c'è l'intervista a Don Roberto Macciantelli, che è sacerdote bolognese, rettore del seminario Arcivescovile. Nel 1986 gli aspiranti sacerdoti erano 40, dice oggi sono soltanto 8. Andiamo a Urbino, Sgarbi, prosindaco, c'è l'ok, la delibera del Consiglio, che ieri l'ha votata a favore anche Giorgio Londei della minoranza, ha approvato il bilancio di previsioni, 10 a favore, 7 contrari. Secondo Gambini è stato fatto un passaggio per chiarire gli atti comunali precedenti. E sempre da Urbino invece, guardate questa fotografia, allora sono degli operai, chiamiamoli così, forse il termine non è corretto, comunque hanno tentato ieri di riposizionare una sfera sul campanile, quella che si vede qua sotto, che era danneggiata, si è danneggiata il 6-7 novembre 2016, il vento l'ha piegato praticamente la croce del campanile, vedete sotto la sfera di rame salvata in extremis, sempre nel 2016, e poi dall'archivio del professor Fulvio Palma di Urbino, la foto invece di quando in un precedente intervento la sfera necessitò di manutenzione per poter arrivare fino ad oggi. E questo è il tentativo invece ieri di ricollocarla, però è stata messa per il verso sbagliato, solo la croce, quindi alla fine c'era troppo vento e quindi non è andato a buon fine. Ci riproveranno. Nella pagina di Macerata invece del resto del Carlino c'è la notizia che insomma lascia un po' così e che riguarda il nome dell'arcivescovo di Camerino, San Severino Francesco Massara, che è un nome che è tra le migliaia di pagine dell'inchiesta sull'andrangheta che la scorsa settimana ha portato in carcere 260 persone e altre 70 sono finite ai domiciliari. L'alto prelato non è tra gli indagati, su questo non ci sono dubbi o ambiguità, ma il suo nome spunta tra le intercettazioni eseguite dai carabinieri del ROS su disposizione della procura antimafia di Catanzaro. Si tratta di fatti avvenuti all'incirca un anno prima della nomina di Don Francesco alla guida dell'Arcidiocesi del Maceratese, nomina firmata dal Papa Francesco a luglio dell'anno scorso. La maxinchiesta è stata rinominata, è stata chiamata Rinascita Scott. Scott è il cognome di un agente della DEA che ha trascorso otto anni in Italia per indagare sulle organizzazioni narco-draghettistiche e che poi è morto a rientro negli Stati Uniti in un incidente stradale. E questo presunto summit, questo presunto incontro con Mancuso e Pittelli emerge da una telefonata tra due indagati. 1200 pagine dell'ordinanza di custodia cautelare scritta dal giudice distrettuale per le indagini per eliminare Barbara Sacca. E tra queste pagine vengono riportati stralci di conversazione tra gli indagati e appare il nome dell'Arcivesco alla fine dell'agosto 2017. E qui c'è tutto tutto il resoconto nell'articolo sul resto del Calino. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico, questa è l'edizione di Pesaro. In primo piano la vicenda di questa giovane coppia travolta da uno scuterista pirata, questi fidanzati investiti a Soria ricoverati negli ospedali di Pesaro, lei e Ancona, lui. Mentre a centropagina la piazza senza bottiglie e senza petardi perché c'è questa ordinanza per l'ultimo dell'anno per la festa di San Silvestro dedicata agli anni 90 a Pesaro. Siamo in ritardo, velocemente. Il 2020 si aspetta in piazza ma vietati vetro e petardi. Feste blindate, c'è la Task Force, il centro storico di Pesaro osservato speciale, titola ancora il Corriere Adriatico. Poi dopo la bretella di Muraglia la priorità è Santa Veneranda, dice il sindaco Ricci in commissione. Opere accessorie il secondo casello, il comune non perderà nulla. Una giovane coppia all'ospedale caccia allo scuterista privata le pagine interne. La mensa invece ha chiuso nel silenzio, sempre la mensa di Pesaro, per noi niente miracolo di Natale. Gli ex dipendenti di Via Trento dicono ci siamo sentiti abbandonati praticamente da tutti. La tragedia di Bebo invece nelle cronache delle pagine interne, sciocche e dolore, siamo stati insieme fino all'ultimo. L'incredulità degli amici di Federico Cerreti, il calciatore dell'ASD Gallo, trovato morto al volante. C'è anche l'altra notizia di un fuoristrada, perde il controllo dell'auto e schischianta. In gravi condizioni un trentenne di Tavuglia. Guardiamo al passato per fare grande il futuro l'astrofisica Marica Branchesi è la neopresidente del club per l'UNESCO. Aperta la strada per Belgatto, a Fano mancano 4 km a sud, inaugurato il tratto delle opere compensative, rimasto monco dall'accesso alla 14. Polveri sottili, studieremo i dati per cambiare la mobilità urbana, dice il sindaco Massimo Seri, disponibile alle proposte di Forbici. Attenzione alla malavita, integriamo gli immigrati. Il nuovo segretario di Confcommercio, Marco Arzeni, segnala due problemi indice. E poi lo schianto sulla statale, un motocarro che si ribalta, ferito un 17enne portato all'ospedale. Ecco la fotografia dell'incidente avvenuto alle 18.45 di ieri, dalla Val Cesano, creatività, arte e fede per la natività e poi dalla Val Metauro, revolver per regolare i conti, trovato con il cane armato nella cassetta delle lettere in un condominio di Calcinelli. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. A nome di tutta la redazione, di tutta Fano TV, gli auguri ovviamente per un Santo Natale. Noi ci vediamo comunque domani mattina alle 9 per la consuita trasmissione degli auguri, quindi in diretta anche la mattina di Natale e di domani. Ci ritroveremo per stare un po' insieme, un'oretta circa. Quindi ci vediamo stasera alle 20.30 per il Tg e domani mattina per gli auguri. Arrivederci. Grazie a tutti.